Poiché l'autonomia scolastica in questi anni è stata a dir poco ridotta, questo affidamento tardivo all'autonomia scolastica, alle singole scuole e ai dirigenti scolastici, suona quantomeno sospettoso. Non si elude il dubbio di uno scaricabarile. Non convince nessuno il piano scuola messo a punto dal ministro Azzolina e che adesso dovrà passare dalla conferenza Stato-Regioni, un'altra grande perdita di tempo, secondo gli addetti ai lavori, quando di tempo ne è già stato perso molto. A quattro mesi dall'inizio della pandemia, ad esempio, potevano essere già stati valutati gli spazi pubblici da mettere a disposizione dei vari istituti. Il problema principale è proprio lo spazio per rispettare le regole ancora non certe del distanziamento sociale tra gli alunni. Un metro tra bocca a bocca, cioè tra volto e volto, diciamo così, che più o meno è, non dico spalla a spalla, però quasi. Ma senta, intanto si parla di un metro, però lei deve considerare che questo metro viene misurato dalla posizione centrale di un banco, ma i ragazzi non è che nel banco stanno fermi, non sono incollati al banco, quindi questo metro necessariamente deve oscillare, quindi dovremmo aumentare il raggio di lunghezza dello stesso per provvedere. Poi ci devono essere spazi adeguati di movimento. Io, molto concretamente, nella mia scuola sto facendo delle ipotesi, anche circa il numero dei ragazzi che settimanalmente può venire qui a scuola, facendo delle continue rotazioni, perché se il numero diminuisce aumentano gli spazi. Cioè, noi contiamo di far venire ogni giorno i due terzi dei nostri alunni. Lei considera che ne abbiamo 1.600-1.700, quindi faccia il suo conto. Venendo due terzi degli alunni, un tot di aule rimarrebbero libere. E fra l'altro riducendo la durata della settimana di lezione degli alunni. Per esempio, noi dovremmo probabilmente ridurre la durata della lezione da 60 a 40 minuti e fare in modo che l'intero ciclo delle 32 ore settimanali sia ridotto in un contesto di 4 giorni. In questo modo guadagniamo degli spazi, guadagniamo degli spazi però, come dire, riducendo la durata delle lezioni. È una sorta di gioco matematico. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ovviamente, ma i presidi denunciano troppa responsabilità sulle nostre spalle. Oltre agli spazi, mancheranno anche gli organici e le classi saranno ancora più numerose. Noi bisogna considerare che non ci saranno bocciati, quindi le classi terze saranno davvero numerosissime. Il personale scolastico, per esempio i bidelli, possono occuparsi di vigilanza solo temporaneamente. Ma io non posso dire a un bidello, tu stai in questa classe per tre ore questa mattina, perché non è consentito dal manzionario. Quindi gli organici che contano sono sostanzialmente quelli dei docenti. Solo con un aumento degli organici dei docenti è possibile affrontare la situazione.